Vorrei chiarire quello che è successo la sera del 4 gennaio. Io frequentavo Benno da inizio dicembre e quella sera avevamo cenato insieme e poi lui avrebbe dormito da me. Io non ho notato nulla di strano, a parte che è arrivato in ritardo. Appena arrivato ci siamo abbracciati e lui mi ha detto alla fine Martina non ce l'ho fatta a farmi la doccia. Io gli ho detto ok vai a farla, preparo la tavola. È uscito dal bagno, abbiamo cenato. Ho visto solo dopo che i suoi vestiti erano per terra in bagno e gli ho chiesto se voleva che li lavassi. Lui mi ha risposto sì se non sono troppo sfacciato. Per me è stata una cosa di tutto normale. Il giorno dopo ho lavato i nostri vestiti. Dopo circa due settimane i carabinieri hanno perquisito casa mia e io non ho consegnato i vestiti perché avevo paura e non sapevo cosa fare. In quel momento non avevo un avvocato. Solo dopo ho saputo che era mio diritto averne uno durante la perquisizione. Il giorno dopo essendo molto spaventata e confusa mi sono rivolta ad un avvocato consigliatomi da una mia amica perché io non ne conoscevo nessuno. Lui poi mi ha consigliato di portare vestiti e di dire tutto quello che sapevo cosa che poi ho fatto. Vorrei scusarmi con i carabinieri e con i ris per non aver detto subito tutta la verità ma ero veramente molto spaventata e non sapevo cosa fare. Allora prima di sentire gli ospiti in studio chiedo aiuto alla dottoressa Bruzzone. Allora noi abbiamo poi alla fine ricostruzioni che a volte sono un po' frammentari dottoressa Bruzzone però ci sono dei punti fermi. Questo ragazzo arriva a casa dei genitori dove peraltro vive. Un vicino l'avrebbe visto a un certo punto fare stretching quindi fare attività post allenamento poi prende la macchina c'è un percorso che dura un po' più di quello che sarebbe dovuto durare. Arriva in un laghetto dove si rilassa per circa una mezz'ora. Ci sarebbe anche un testimone disposto a dire sì quindi confermare questo alibi quindi però il passaggio secondo me importante esce di casa e va a rilassarsi nei pressi di un laghetto. punto. Sì ma la circostanza del laghetto peraltro emerge successivamente. Sì no sono andato un po' lungo. La circostanza del laghetto non l'ha riferita subito, l'ha riferita successivamente a quando gli hanno detto scusa ma come mai allora agganci questa cella non è nel percorso che dovrebbe essere consentirti di raggiungere l'abitazione di questa tua amica. Prima cosa. Da lì comincia a dire di essersi sbagliato, di aver percorso una strada sbagliata e poi dopo salta fuori la circostanza della sosta al laghetto. Mi sono andato a rilassare. Faccio un passaggio, era andato un po' lungo dottoressa ma la cosa che per me è davvero poco credibile io ho una fidanzata, una ragazza con cui diciamo ho iniziato una relazione da 20 giorni, dagli inizi di dicembre siamo a 20 giorni di frequentazione. Esco da casa e non ho fatto la doccia, non mi sono lavato, non mi sono cambiato. Perché? L'unica spiegazione è perché non ho tempo, perché ho finito diciamo di lavorare come un matto, mi sono portato, so che vado a dormire a casa della fidanzata, mi porto dei vestiti dietro per trascorrere poi la serata, la notte e il giorno. Non ci sta con la pausa di mezz'ora nel laghetto questa ricostruzione. Allora, se ho tanta fretta non riesco a fare la doccia e me la faccio a casa sua e allora sta sosta di mezz'ora proprio non torna davvero. Fatti la doccia a casa tua. Non è soframentare confusa di suo. Insomma, voglio dire, peraltro ripeto, questa ragazza ben ha fatto, e quindi ben ha fatto il legale che gli era consigliato, a consegnare tutto quello che aveva in casa e a fornire delle informazioni un po' più precise di quelle che aveva reso inizialmente. Perché è chiaro che quello che succede quella notte, i vari passaggi che lui descrive e le versioni che lui ha fornito, saranno le centrali dell'inchiesta. Però certo, sta pausa al laghetto personalmente non mi torna proprio. Terzi, è passato qualche anno, ma anche nei tuoi ricordi non vai a casa di una fidanzata da docciare, da cambiare. Anche adesso li lavo da solo, ma lasciamo stare questo. Però, oltre ogni battuta, volevo dire una cosa che per me è assolutamente assurda. Cioè, com'è possibile, com'è possibile in questo caso che gli investigatori. Sono scomparse due persone. Questo ragazzo dice che è stato dalla sua, insomma, amica speciale, chiamiamola così. Vanno a casa due settimane dopo, dall'amica speciale, e non fanno una verifica puntuale. 30 metri quadrati di appartamenti. So che lei, che per fortuna si ravvede, si spaventa e porta agli abiti. Allora, siccome noi sappiamo, e abbiamo qua fior di criminologi importanti, che le prime 48 ore sono definitive... Si ravvede e si spaventa? Ho capito, sì, ma le prime 48 ore sono decisive. Allora, mi chiedo, siccome stiamo vedendo revisioni di processi continuamente perché le indagini vengono fatte in maniera approssimativa. Giovanni, cosa cercavano i carabinieri a casa di casa? E questo bisogna chiederlo a loro, perché comunque... No, questo lo possiamo immaginare. Cercavano i vestiti, perché Ben non avrà raccontato questa cosa del mi sono cambiato. Beh, se, avessero cercato i vestiti, avrebbero chiesti alla ragazza. Almeno chiedere, no? Chiedo, no, uno è... Non lo so, 30 metri quadrati di casa, non hanno trovato i vestiti da uomo, o uno può chiedersi qualcosa? Non solo, non solo, non è la reazione di te. Perché io vedo in questi inizi di indagini, che sono, ripeto, decisive per ogni cosa, sempre, molte volte, un'approssimazione. E questa approssimazione poi rischia di causare dei processi che tornano poi, dopo la Cassazione, indietro in appello. Avvocato Cassari? Ma, indubbiamente, la questione dei vestiti è una questione molto importante, perché di solito chi commette un reato grave li butta, li brucia, li fa sparire. O li fa lavare. Ecco, e mi sembra che è abbastanza approssimativa il programma criminoso, l'eventuale programma criminoso di questo ragazzo. Poi lava la macchina, e sono due. Poi sta al laghetto mezz'ora, e sono tre. Da solo o con qualcuno? Perché arriva a casa e si fa la doccia? Potrebbe essere anche un motivo per far sparire eventualmente tracce ematiche, non lo so. Ovviamente, dopo un fatto del genere, la prima cosa che fa è di far sparire le prove. Era da solo? Era con qualcuno? Ma io credo che risolto questi omicidi, ma ce lo può dire Roberta, che è una criminologa. Vediamo cosa dice Roberta Bruzzone, poi subito Monica Sette. Roberta? Lo dice lui di essere andato al laghetto, perché deve giustificare un'incongruenza rispetto alla versione che ha fornito, ok? Quindi quella è una informazione che emerge quando lui viene sollecitato sulla versione che ha fornito in precedenza. Ora, la storia del laghetto è probabilmente, insomma, verosimilmente una menzogna. È un elemento che cerca in qualche modo di inserire, perché lui ha una quarantina di minuti da riempire rispetto al tragitto che ha fatto, che avrebbe dovuto portarlo all'abitazione della fidanzata in un'epoca precedente rispetto al suo arrivo effettivo. Lui ha quel 40 minuti di buco che fa molta fatica a riempire. Quindi c'è la circostanza del laghetto, semplicemente perché probabilmente è la cosa che gli è venuta in mente più realistica, più verosimilmente. Ma anche perché poi Bozzano è piccolo, i tempi di veccholenza sono brevissimi. Sono strade che si conoscono. Io conosco molto bene i luoghi, i tempi sono molto rapidi, peraltro non c'è neanche problema di traffico. No, a quello loro proprio non c'è nessuno, è deserta, perché anche il fatto di portare, l'abbiamo detto, no Monica, anche il fatto di portare a spasso il cane di 5 e mezza di mattina con la temperatura di molto sotto zero, insomma sono tutti particolari che ci devi proprio voler credere. Comunque Milo mi pare che si è indagato a piede libero, vero Ben? Assolutamente. La procura di Bozzano ha già un'idea molto chiara, pensa che questi coniugi non siano usciti a fare una passeggiata ma che siano stati assassinati dal figlio. Allora io non entro nello specifico perché non sono né un avvocato né una criminologa, però mi viene da dire che forse siamo davanti ad un ennesimo episodio di violenza all'interno delle famiglie e questo secondo i dati, i dati sono aritmetica pura, quindi possono essere interpretati però sono quelli, tu pensa che durante il lockdown le chiamate ai centri antiviolenza, non parlo solo di violenza di genere, quindi di donne, ma proprio di violenza familiare, sono aumentate del 119,6% contro una media europea del 60, quindi insomma io penso che in questo momento il problema che noi ci dobbiamo porre è proprio questo, cioè quanto il lockdown possa fare ancora più male ad alcune dinamiche familiari che sono già tese e vicine quindi al dramma, alla tragedia. Non c'è dubbio, intanto un'indicazione di servizio, se possiamo chiedere di stringere l'inquadratura risolviamo tutti i problemi, così almeno possiamo poi riprendere il collegamento con la nostra inviata, con Francesca Martelli che vedo che ha un ospite. Intanto questi sono dei punti poco chiari ancora dell'inchiesta che sta procedendo con una certa lentezza, questo lo diceva anche prima Giovanni Terzi, forse la gente si aspetta decisioni un po' più veloci, anche tutte le telecamere, le immagini, quanto tempo è passato dalla scomparsa dei coniugi al momento della richiesta? Perché di solito dopo due o tre giorni le immagini o addirittura in qualche caso dopo le 24 ore vengono cancellate, quindi si perdono. Sì, questo è uno dei temi, perché poi dopo i processi si fanno su una serie di risultanze e le risultanze si passa troppo tempo, è sempre più difficile recuperarle, soprattutto si dà tempo a chi magari si vuole poi difendere di in qualche modo modificare anche delle parti della casa. Ripeto, io capisco molto bene la ragazza che si è ravveduta, ma per fortuna si è ravveduta, se no noi questi vestiti di Ben non li avremmo neanche mai avuti. Guarda che in sé la cosa, adesso noi vogliamo davvero, non vogliamo puntare la corso su questa ragazza che poverina ha tutto quello che vuoi, ma guarda che la cosa è di una gravità che è inaudita. Sì, sì. Ma è inaudita che i carabinieri non l'abbiano trovato i vestiti, quindi siccome noi abbiamo fiducia nei RIS e nei carabinieri, l'unica spiegazione è che siano stati nascosti questi vestiti, perché se hanno fatto una perquisizione hanno aperto gli armadi, tu dove li tieni dei vestiti da uomo? Cioè è una ragazza minuta, non so se possiamo vedere le immagini, l'intervista che hanno realizzato i colleghi di chi l'ha visto, la vedi che non è una ragazza alta 1,90 m, questo è un ragazzo palestrato, alto, grosso, non puoi scambiare una camicettina di seta con una felpa di un uomo di 80 kg, no? Può darsi che non sessero in casa, può darsi che l'avessero nascosti da qualche parte. Può essere che... Perché è strano che i carabinieri possano fare un errore del genere. Però te lo chiedono, Gian Ettore, cioè il carabiniere che entra, entra per fare una verifica, adesso lo chiediamo alla dottoressa Burzone, una verifica nella casa e poi dicono ma ci sono qui degli indumenti, qualche cosa del signor Benno? Lui dice ho passato la notte, evidentemente avrà anche detto mi sono cambiato o avrà fatto capire qualcosa, per cui sono andati a fare una perquisizione in una casa dove ha dormito una notte. Già due settimane dopo, già questo è avvenuto due settimane dopo. Già due settimane dopo. Tanti diciamo...